guardate che bagone pisello taci notare vaghissimo non c'è neanche il remo è bello che quando fa lui mi si muove ma io se io voglio girare posso girare da una sola ora come uno smasso il bear bug uccidilo e te che voli te voli gira 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 volo guarda beh si è sollevato da terra giustamente guarda che si vede poco super bug ragazzi basta adesso basta si basta per fare la missione che cavolata che baghissimo guarda che cavolata guarda che cavolata